Sì, è una caratteristica della vivicità che si corre da 34 anni, sempre all'insegna di un tema sociale o ambientale. Quest'anno la gara è legata al tema dei rifugiati, infatti abbiamo anche la presenza di alcuni rifugiati qui e un euro per ogni iscrizione andrà esattamente ad allestire dei campi sportivi nei campi profughi in Libano per i bambini seriani che stanno soffrendo tanto in questo momento. Sì, è il sogno! Al passaggio Bravo Davide! Sì, è il sogno! Scusa! A guarda naturalmente, è il sogno di Liborzano, il più giovane della compagnia. ...divicità per quello che rappresenta nel mondo questa manifestazione, non è solo agonismo ma tante altre cose. Professore Chilla, all'arrivo di lui, vincenzo, valore presidente della taglia 4.000. Grazie a tutti! Grazie a tutti!